Un bellissimo traguardo raggiunto da Fabio e da Benedetta, 25 anni di matrimonio, tanti tanti auguri. 25 anni fa io iniziavo a fare le telecroniche con Beppe Bergamo. Già i matrimoni durano pochissimo, poi nei VIP ancora meno. Aver raggiunto 25 anni di matrimonio è un grande traguardo, tanti auguri.